La neonata associazione dei commercianti di Cirignola-Nivogiano, diretta dal giovane imprenditore Cesare Azzolino, ha fatto pervenire alla nostra redazione una informazione per chiedere chiarezza sulla intenzione del comune Uvantino di bedonalizzare il corso principale cittadino. Nella missiva inoltre si chiede di prendere visione degli elaborati tecnici al fine di poter dire alla nostra alcune operatori commerciali che verosimilmente saranno i primi destinatari di questo intervento. L'associazione inoltre pone al locale comune due punti. Il primo è quello di chiedere apposite convenzioni per gli stalli del parcheggio nelle immediate vicinanze del corso in modo da dare impulso al commercio locale e poi di rendere bedonale sin da subito il tratto tra la villa e l'ex ospedale in modo da testare eventuali criticità e correggerle in tempi rapidi. La risposta adesso passa al comune per capire in che direzione si muoverà il progetto.